I reni sono tra gli organi più importanti del nostro corpo, responsabili del filtraggio dei rifiuti, della produzione di globuli rossi e persino del mantenimento di ossa forti e robuste. Nel video di oggi ti raccontiamo i segni che indicano che i reni sono in difficoltà. Che tipo di sintomi ci sono? Possono essere compresi facilmente? Parleremo di tutto questo e di più. Sei più stanco del solito, hai meno energia o hai problemi di concentrazione. Una grave diminuzione della funzione renale può portare a un accumulo di tossine e impurità nel sangue. Questo può causare stanchezza, debolezza e può rendere difficile la concentrazione. Un'altra complicazione della malattia renale è l'anemia, che può causare debolezza e affaticamento. Due, hai problemi a dormire. Quando i reni non filtrano correttamente, le tossine rimangono nel sangue piuttosto che lasciare il corpo attraverso le urine. Questo può rendere difficoltoso dormire. C'è un legame anche tra obesità e malattie renali croniche, ed anche con l'apnea durante il sonno, che è più comune nelle persone con malattie renali croniche, rispetto alla popolazione generale. Tre, hai la pelle secca e pruriginosa. I reni sani hanno molti compiti importanti. Rimuovono i rifiuti e i liquidi in eccesso dal corpo, aiutano a produrre i globuli rossi, aiutano a mantenere le ossa forti e lavorano per mantenere la giusta quantità di minerali nel sangue. La pelle secca e pruriginosa può essere un segno di malattia minerale, e ossea, che spesso si accompagna a una malattia renale avanzata, quando i reni non sono più in grado di mantenere il giusto equilibrio di minerali e nutrienti nel sangue. Quattro, hai il bisogno di urinare più spesso. Se senti il bisogno di urinare più spesso, soprattutto di notte, questo può essere un segno di malattia renale. Quando i filtri renali sono danneggiati, possono causare un aumento della voglia di urinare. A volte questo può anche essere un segno di un'infezione urinaria, o di ingrossamento della prostata negli uomini. Cinque, hai sangue nelle urine. I reni sani solitamente trattengono le cellule del sangue nel corpo quando filtrano il sangue dai rifiuti per creare urina, ma quando tali filtri renali sono danneggiati, queste cellule del sangue possono iniziare a fuoriuscire con le urine. Oltre a segnalare una malattia renale, il sangue nelle urine può anche essere indicativo di tumori, calcoli renali o di un'infezione. Sei, hai gonfiore persistente intorno agli occhi. La presenza di proteine nelle urine è un primo segno che i filtri dei reni sono danneggiati, permettendo alle proteine di fuoriuscire con le urine. Questo gonfiore intorno agli occhi può essere dovuto al fatto che i reni perdono una grande quantità di proteine nell'urina, invece di mantenerla nel corpo. Sette, le caviglie e i piedi sono gonfi. La diminuzione della funzione renale può portare alla ritenzione di sodio, causando gonfiore ai piedi e alle caviglie. Il gonfiore alle estremità inferiori può anche essere segno di malattie cardiache, malattie epatiche e problemi cronici alle vene delle gambe. 8. Hai scarso appetito. Questo è un sintomo molto generico, ma un accumulo di tossine derivanti da una ridotta funzionalità renale può esserne una delle cause. 9. Hai crampi ai muscoli. Gli squilibri elettrolitici possono derivare da una ridotta funzionalità renale. Ad esempio, bassi livelli di calcio e fosforo, che solitamente è scarsamente controllato, possono contribuire ai crampi muscolari. 10. Alta pressione sanguigna. Il sistema circolatorio e i reni dipendono l'uno dall'altro. I reni hanno piccoli nefroni che filtrano i rifiuti e i fluidi extra dal sangue. Se i vasi sanguigni si danneggiano, i nefroni che filtrano il sangue non ricevono abbastanza ossigeno e nutrienti. Ecco perché l'alta pressione sanguigna è la seconda principale causa di insufficienza renale. 11. Mal di schiena. L'insufficienza renale può causare dolori alla schiena che di solito sono profondi e si localizzano proprio sotto la gabbia toracica. Possono essere percepiti anche nella parte anteriore del linguine o dell'anca. Il dolore alla schiena e alle gambe può essere causato da cisti renali, che sono grandi sacche piene di liquido che si formano sui reni e sono il risultato di malattie renali policistiche. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici! Grazie! Grazie! Grazie!